ciao a tutti amici del canale oggi siamo qui con una nuova video recensione allora oggi vorrei parlarvi di un marchio italiano pierboné non so se la pronuncia è giusta comunque io la dico così pierboné e facciamo un piccolo preambolo perché sinceramente non ho trovato tanto ma alla fine non ha poi ci sono stati dei tempi gloriosi fino agli anni 70 80 poi dopo un po gloriosi diciamo usiamo tra virgolette diciamo che sono dal sito poi leggendo dal sito comunque se hanno prodotto tantissimi tipi di modelli tra cui c'erano degli automatici in passato che montavano anche dei vacu 7750 alcuni eta ma poi dagli anni 80 in poi diciamo che è stato un po un andare sul stabilizzarsi su un certo tipo di mercato quindi sono stati dei quarzo cinesi anche alcuni tourbillon cinesi che mi pare di aver letto online ma anche qualche seico della si epson come questo qui io ne ho due qui da farvi vedere però faremo perché la puntata è incentrata più puntata l'episodio è incentrato più su gli orologi che questi qua questi due esemplari erano hanno un po di anni ed erano degli orologi stati presi con i punti del del dei delle poppe di benzina praticamente uno accumulava i punti si potevano prendere tantissimi regali tra cui c'erano anche questi orologi questi spisano di mio padre sono e quindi per curiosità ho detto vabbè anche per un ricordo per un tempi andati ricordare quando si accumulavano si prendevano i fornetti io penso che tutti un po l'abbiano vista questa situazione almeno quelli che comunque dei 30 in su ma anche un po meno e quindi qui mio padre prese questi due orologi uno e questo qui e l'altro poi lo vedrei facciamo giusto un anticipo è un quadrante bianco poi lo vedremo magari la prossima volta per intanto ci voglio ci concentriamo su questo qui e lo vediamo cioè lo scopo è vederlo insieme vedere un po i materiali come sono e ovviamente parliamo di orologi che ho dato un'occhiata sul sui siti in giro allora loro dicono che sul sito è nata nel 1968 ovviamente parlo un po descrive così però non ho trovato niente di non tante informazioni comunque inerenti le cose particolari come siamo magari abituati con marchi diversi e quindi per curiosità volevo vederlo insieme insomma e adesso cambiamo la prospettiva lo mettiamo davanti vediamo anche prima un po la scatola e poi vediamo l'orologio allora eccolo qui io metto i guanti più che altro per una questione di macchie quindi almeno si può vedere meglio allora mettiamo un attimo da parte l'orologio questa è la scatola praticamente è una scatola con il loro logo qui di simil pelle cartonato simil pelle ha un po di anni quindi un po di usura e poi qui sono tutte le le carte libretto qui c'è la maglia che è stata tolta niente di che comunque come scatola passiamo all'orologio ed eccolo qui vediamo se riesco a mettere a fuoco meglio eccolo qua allora l'orologio si prese è un crono e come detto prima in precedenza un movimento si epson quindi della seiko e la composizione del quadrante l'orologio si chiama sport line by pier bonnet quindi sembrerebbe che da come si intuisce qui e e by pier bonnet però il marchio sport line ma in realtà è un pier bonnet e anche perché nel senso anche la scatola tutto quanto come potete vedere anche qui cronografo quarts insomma c'è scritto stainless is back water resistant 5 atmosfere pier bonnet sport line by pier bonnet comunque loro dicono così adesso vedremo anche un po di misura allora il quadrante allora ha un po di luminosità se non si un po negli indici ma niente veramente poi sicuramente avrà perso un po della sua luminescenza il quadrante è un blu nero veramente un nero canna di fucile con quadrante bianco che ricorda molto i quadranti tachimetri delle auto soprattutto quello dei minuti cronografici e quello dei secondi cronografici perché ecco la stranezza comunque non sapevo che questo tipo di movimento che il vd 54 della sii ho controllato dentro a poi qui abbiamo le 24 ore insomma e il cronografo è ad ore 6 nel quadrante piccolo anche per quanto possa essere ben comunque bisogna anche dire che anche se è quello piccolo però se notate i due quadranti sono ben visibili quindi comunque proviamo così lui parte comunque è ben visibile lo stoppiamo insomma però in genere noi siamo abituati a vedere che il vero cronografo comunque almeno come la penso io ma non solo ha il la lancetta dei minuti secondi cronografici e quella grande in mezzo abbiamo queste lancette tipo a gladio che hanno solo la punta piena con un po di luminescenza e poi sono scheletrate abbiamo gli indici applicati con la minuteria bacchettine molto semplici rettangolini e bacchettine e niente poi scritto sportline by pier bonemmi tutto qua cosa interessante la ghiera non la ghiera cioè nel senso con i guanti purtroppo un po difficile comunque gira mi pare sia aspettato un attimo che la verifico e se riesco a farla girare ho tolto un po il guanto sì è 120 scatti non è non è 60 comunque devo dire che sì un po di gioco c'è perché muovendo così comunque c'è vetro minerale però diciamo che non è non dà proprio una sensazione di super lattina quindi alla fine non è nemmeno così male e diciamo che alla fine può essere abbastanza tollerata bracciale abbiamo delle maglie piene un po sottili e poi penso sottili scusate anche per il fatto che sono inclobate nella nella cassa dell'orologio come potete ben vedere qui metto di nuovo a fuoco è andato un po fuori fuoco ok è un po è tutto integra integrato quindi vuole fare l'effetto del bracciale integrato satinato come parte lucida a proposito abbiamo solo le incavature qui nella ghiera e nella parte laterale della cassa il fondello è a vite con tutto come abbiamo visto prima ecco il bracciale come si presenta la parte di dietro qui abbiamo la la scatolina di chi con la fibbia qui di chiusura metallica insomma e niente bracciali sono con i perni cioè le maglie sono a perno diciamo che non è poi così male male allo stampo degli anni 90 ecco i pulsantini anonimissimi del cronografo insomma corona molto abbastanza proporzionata alla fine comunque è un orologio questo qui con il classico la classica configurazione dei primi anni duemila fino anni 90 inizi duemila più che altro mi pare che risalda a quel periodo e quindi è quella la configurazione si usavano tanto i bracciali così integrati comunque alla fine anche abbastanza grazioso e su prezzi io sinceramente non ho dato nessun tipo d'occhiata ma alla fine uno può andare a vedere adesso vediamo un po di misure allora abbiamo le misure mi piacciono perché abbiamo un 40 con corona 49 con corona e senza corona abbiamo un 38 e 5 poi diciamo il bracciale nella parte proprio qui e 20 poi abbiamo lo spessore nella parte della cupola perché 13 6 la parte un po il vetro un po con la cupoletta e poi abbiamo danza danza diciamo anche perché è un po difficile il calcolo abbiamo 46 e 7 diciamo che le misure non sono malaccio anzi sono abbastanza portabili quindi poi lo vedremo nei dettagli come sempre con un orologio in vetrina allora e niente alla fine perché perché avevo voluto far vedere questo tipo a poi abbiamo a bella scala sulla ghiera che incisa con i colori dentro praticamente è stato colorato serigrafato insomma diciamo alla fine questo è mantenuto benissimo perché non è stato usato per nulla quasi anche un pochino però non più di tanto è stato tenuto bene allora io ho voluto parlare anche di non so che magari alcuni anzi tantissimi hanno vabbè pierbonè quello insomma magari non a tutti piace cioè nemmeno io io non sono logiche cioè io adesso prendo e lo vado a comprare però secondo me è giusto anche parlarne perché comunque fanno parte anche di un di una certa storia e almeno per quanto mi riguarda perché fu un'epoca dei primi anni 2000 fino anni 90 2000 che comunque andava tantissimo di moda raccumulare i punti e prende gli orologi alle bombe di benzina e queste ripeto sono di mio padre tutte e due la prossima volta vedremo l'altro però vi posso anche dire che a livello di costruzione non è male cioè comunque è fatto bene cioè poi qua è questione di gusto questione di movimento quello che si vuole ma anche i tempi moderni se una persona vuole un orologio comunque da mettere con spensieratezza e magari sono delle forme che gli ricordano degli anni felici per lui insomma non voglio essere romanticistico romanticistico romanticista o nostalgico però magari sono delle forme che apprezzano alcune persone apprezzano a me evocano ricordi comunque abbastanza felici però poi alla fine non è una forma orribile ecco non è un qualcosa di gigantesco che si mette al polso e fa una brutta figura alla fine è usabilissimo un orologio che si può usare tranquillamente io penso che costi pochissimo comunque si trova a prezzi e poi alla fine l'acciaio è buono anche cioè nel senso io ho visto cose moderne orologi moderni che vengono venduti a molto di più e comunque come materiali siamo lì questo non credo che costi tanto e alla fine rende anche abbastanza felici non è un orologio di prestigio perché bisogna anche un po' differenziare tra orologi di prestigio e da collezione è un orologio invece semplicemente che una persona compra solo perché gli evocano dei ricordi e questo secondo me è un orologio che evoca un ricordo piacevole poi uno magari non lo indossalo oppure lo indossa tipo in situazioni un po' particolari così niente di che con molta tranquillità o semplicemente solo perché vuole averlo niente di che niente ragazzi io volevo solo raccontare da questo punto di vista anche quello tecnico perché alla fine secondo me come giudizio finale posso dire che alla fine non è poi così orribile o un movimento comunque della si epson alla fine il quadrante è molto abbastanza leggibile soprattutto la parte cronografica che mi ha stupito il fatto che non essendo ad ore come la classica però anche se sono i due piccolini hanno una buona lettura devo dire la verità e poi alla fine come materiali l'acciaio comunque c'è non è male cioè fatto abbastanza bene ed è anche questo un piccolo pezzo della nostra storia della storia dell'orologeria che secondo me qualcuno il sottoscritto ha raccontato anche per evocare piacevoli ricordi niente ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto era sì sì dal punto di vista tecnico guardarlo un pochino informarvi vederlo un po bene parlando insieme e sì dal punto di vista comunque evocativo ovviamente come sempre farò i dettagli con oggi la rubrica di orologi in vetrina niente mi raccomando iscrivetevi al canale commentate condividete insomma e vi ringrazio ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi